È trasversale l'appello al Governo e al Parlamento perché colmino il vuoto normativo rispetto al riconoscimento anagrafico dei figli delle coppie monogenitoriali. Lo stop dei prefetti ai sindaci alla luce del pronunciamento della Cassazione costringe in un limbo tanto i diretti interessati quanto gli uffici municipali che si trovano nella condizione di non poter fornire una risposta, un servizio al cittadino che lo richieda. Io non ho seguito questa partita anche perché va distinta tra il diritto all'iscrizione dell'anagrafe e l'altra rivendicazione che è quella di avere appunto la gestante, l'utero in affitto e tutta una partita che è delicatissima. Io ragiono sempre in una maniera che la mia libertà finisce dove inizia la tua e viceversa. Il discorso è molto complicato e non lo liquiderei come fa qualcuno. Una soluzione da parte del legislatore viene invocata da Mario Conte, presidente dell'Anci Veneto, che da sindaco di Treviso aveva fin qui consentito il riconoscimento di questi bambini. Noi siamo chiamati a far rispettare la norma. Il Parlamento è chiamato ad emettere delle norme. L'appello che io faccio è che si tenga conto delle esigenze soprattutto dei bambini che rischiano di essere vittime di un dibattito politico strumentale, cosa che io non voglio assolutamente, che venga fatta chiarezza su quella che è la posizione in modo tale che poi i sindaci possano agire nel perfetto rispetto delle normative. Negare questo riconoscimento solo per l'orientamento sessuale dei genitori è chiaramente un atto scellerato ed è un accanimento crudele. Stiamo parlando di discriminazione di Stato, quindi io esprimo completa solidarietà ai sindaci che pur contravenendo a una legge si stanno impegnando a resistere perché sono convinti di fare la cosa giusta. Tranciani infine il commento da sindaco del sottosegretario della cultura Vittorio Sgarbi. Il mio vice sindaco è comunista ed è omosessuale. Questa è la linea della mia amministrazione. Quindi il mio vice sindaco io sposerò, tra l'altro devo sposare il filosofo Vattimo con il suo compagno, quindi la mia apertura è totale.